A Grigento i locali notturni e la Movida, il controvento nei pressi del Porticiolo, a San Leone tra aperitivi e long drink. L'aperitivo più bevuto è sicuramente il Mojito, insieme al Moscomiul e poi qualche controvento che sarebbe un cocktail che abbiamo inventato noi, tutto pieno di agrumi e cose di questo genere, cocktail freschi e molto estivi e poi il classico spritz che è il più bevuto nel momento dell'aperitivo comunque. Poi io e i miei colleghi abbiamo inventato un paio di cocktail che sarebbero il controvento, sempre pieno di agrumi con lime, zucchero di canna, arancia, sciroppo di pompelmo, gin e Schweppes lemon, cocktail molto fresco e adatto all'estate. Oppure il Sede che sarebbe sempre una base di Mojito con bacchie di Ginepro, Sauter Comfort, molto apprezzato dalle signore e dalle ragazze. Grazie per la visione!